Certo, è una bella giornata, una giornata di festa e di orgoglio per tutti noi, calabresi e italiani e cittadini del mondo, vorrei dire, perché questo segno e questo gesto voluto da Savia Nicoletti e dalla sua fondazione, dell'Ulivo della Pace, è un simbolo a cui tutti, diciamo, aspiriamo. Noi della Federazione Italiana Club Unesco ci adoperiamo per sensibilizzare e diffondere i valori e gli obiettivi dell'Unesco, che poi sono i valori anche delle Nazioni Unite. Io mi riferisco in particolare agli obiettivi, ai goal dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tutti questi principi e tutta la nostra azione mira a questo, a creare uno sviluppo e un progresso sostenibile, cioè nel quale la tecnologia, le conquiste del mondo di oggi, magnifiche, siano compatibili con una qualità della vita e di benessere per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.